I lavori di manutenzione agli affreschi della Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi possono riprendere. È Fabio De Chirico, sovrintendente ai beni culturali dell'Umbria, a sgombrare il campo dai dubbi. Ma le polemiche scatenate dalle foto pubblicate dal quotidiano La Repubblica non si placano. Dopo l'ispezione di due settimane fa, ordinata dal Ministero, la Direzione Generale per le Belle Arti si era detta allarmatissima per lo stato delle opere sottoposte a manutenzione da Sergio Fusetti, il capo del restauro nonché storico conservatore della Basilica di San Francesco. È in questo momento che non stiamo facendo nessun restauro, dunque possono stare tranquilli, stiamo semplicemente mettendo in sicurezza e spolverando il ciclo dei Lorenzetti. Perché stando in una zona altamente sismica, tutte le volte che avviene nascosto il terremoto, se gli affreschi non sono messi al sicuro sul supporto murario possono cadere. A finire nell'occhio del ciclone, in particolare oltre agli affreschi dei Lorenzetti, anche la cappella di San Nicola e il paramento in pietra del Subasio. È stato definito un paramento da pizzeria. Chi conosce bene la pietra d'Assisi? E la pietra d'Assisi è color rosa. Allora noi la stiamo pulendo perché non si tratta di una chiesa rupestre, si tratta di una basilica papale. E giustamente non si può guardare sto sporco, questo splendore di cicli pittori ci sopra. Fusetti avrebbe deciso di restaurare i grandi capolavori della basilica in autonomia, mentre secondo Francesco Scoppola, direttore generale per le belle arti, per queste decisioni occorrerebbe consultare un'apposita commissione di esperti, tra l'altro già istituita ad Assisi qualche anno fa. Non è che i frati dall'oggi al domani decidono che questo affresco va restaurato, ci si deve fare la manutenzione o cose del genere. Lo decidono gli antipreposti. Quel che è certo è che la basilica di San Francesco ha bisogno di manutenzione, poco importa a carico di chi.